Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestins, tante le notizie anche oggi parleremo a breve della situazione eberco perché sabato mattina c'è un presidio davanti allo stabilimento ma si stanno muovendo a diversi livelli i politici locali, sentiremo le interviste in merito a quella che rischia di diventare una vera e propria situazione difficilissima per tutto il territorio, parleremo anche della Regal Rexnord in cui sono stati comunicati 77 licenziamenti, il candidato alle regionali De Pascale questa mattina era al presidio e poi a livello di politica diversi candidati stanno lanciando la propria campagna elettorale in vista delle elezioni del 17-18 novembre, oggi è stata la volta di Fabio Bergamini della Lega e poi vedremo in questa edizione le immagini della nuova mostra al Palazzo Diamanti il 500 a Ferrara, parleremo anche di cronaca però in questa edizione con un triplice arresto di ladri, di trattori e macchine agricole avvenuti gli anni scorsi però gli arresti pochi giorni fa, diverse poi le notizie, parleremo anche della nascita del primo contratto a livello regionale di area umida che è stato stipulato a Ferrara e poi spazio anche all'agricoltura con cui si vuole guardare al futuro ma andiamo con ordine partiamo con la Berco, il fiato sospeso per i quasi 500 dipendenti di Copparo a rischio licenziamento sabato, come detto si tiene un'assemblea pubblica lunedì, un consiglio comunale straordinario ma come affermato dal sindaco Fabrizio Pagnoni sindaco di Copparo, il territorio si deve unire contro il piano esuberi, sentiamo. Fin da subito ci siamo messi a disposizione delle organizzazioni sindacali soprattutto in difesa dei nostri lavoratori, stiamo parlando di un numero elevatissimo di persone che potrebbero perdere il posto di lavoro e che rischiano quotidianamente, ricordiamo che dietro a ogni lavoratore ci sta una famiglia, c'è una famiglia, la Berco lo sappiamo storicamente, quella che ha contribuito in maniera assolutamente positiva alla crescita e allo sviluppo di tutto il tessuto non soltanto del comune di Copparo e del Copparese ma oggi i dipendenti della Berco insistono veramente su un territorio molto vasto. Abbiamo concordato per la convocazione di un consiglio straordinario monotematico che ci sarà lunedì alle ore 21 presso la residenza comunale di Copparo, naturalmente le porte sono aperte come in tutti i consigli comunali, vorremmo arrivare alla sottoscrizione di un documento, un ordine del giorno che possa partire dal consiglio comunale di Copparo e poi essere esteso a più livelli e anche contagiando positivamente qualche amministrazione vicina, quindi non solo l'unione dei comuni terrafiumi ma vado a pensare anche ad altri consigli comunali di municipalità a noi vicine su cui però è chiaro che i lavoratori di Berco insistono come residenza e come tenuta proprio sociale perché stiamo parlando di una crisi che sicuramente si repercuterà in maniera molto negativa su tutto il nostro territorio e stiamo cercando di arrivare anche ai piani superiori, cercando di coinvolgere la politica anche ai livelli superiori a cui trasmetteremo naturalmente questi documenti che andremo ad approvare nel tentativo proprio di lavorare tutti insieme a quella che possa essere una risoluzione il più pacifica e il più accettabile possibile per tutto il territorio. Il messaggio è unico, è uno, è forte ed è chiaro, siamo al fianco dei lavoratori e i lavoratori non devono pagare ancora una volta per crisi di questo tipo che dipendono da tutta una serie di motivazioni che vanno ben oltre lo stabilimento di Copparo e lo stabilimento di Castelfranco Veneto. Sulla Berco ma anche sulla Regal Rex Nord è intervenuta la politica regionale, sentiamo la capogruppo in regione del Partito Democratico nonché candidata alle prossime elezioni regionali, la ferrarese Marcella Zappaterra che è intervenuta così sulla crisi industriale ferrarese. Situazione Berco va a rendere ancora più preoccupante una situazione di lavoro occupazionale per quanto riguarda la provincia di Ferrara. Rex Nord, Tollo e Berco che farà l'assemblea dei lavoratori con i sindacati, sono due situazioni che dire che ci preoccupano è dire poco, siamo andati ai presidi, siamo vicini ai lavoratori, non li lasceremo soli, ma la situazione è davvero molto preoccupante, lo dico perché i licenziamenti via mail della Rex Nord, Tollo sono una modalità inaccettabile per un'azienda anche sana e su Berco francamente dopo aver vissuto il dramma del 2012-2013, ricordo ancora le notti fatte in trattativa al Ministero a Roma che si riapra una ferita adesso con il rischio stavolta di non riuscire a recuperarla ci inquieta, stiamo intervenendo in tutti i modi possibili come regione innanzitutto per proteggere i lavoratori ma anche per evitare che ci sia un impoverimento dal punto di vista imprenditoriale, su Rex Nord è chiaro che probabilmente l'unica speranza sarà che ci sia un'acquisizione e su Berco adesso inizia un percorso sul quale saremo sulle barricate. Michele De Pascale, candidato alla presidenza della regione Emilia Romagna, ha espresso il suo sostegno ai lavoratori della Regal Rex Nord di Masitorello, De Pascale si è recato allo stabilimento per incontrare i dipendenti ai quali l'azienda americana ha comunicato senza alcun preavviso la chiusura dell'unità locale, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo tramite una PEC, il candidato ha definito inaccettabile e brutale la decisione dell'azienda di licenziare 77 persone, all'improvviso ha inoltre evidenziato l'importanza del settore della componentistica per l'eolico, un'industria strategica per l'economia ha affermato il candidato ed è questa una situazione che rappresenta una sfida cruciale per il futuro della regione, ha poi continuato De Pascale. E rimaniamo sempre in ambito politico adesso, parliamo di elezioni appunto regionali che si avvicinano, manca poco più di un mese, venerdì Fabio Bergamini della Lega ha lanciato la sua candidatura a consigliere e a sostegno della candidatura civica sempre alla presidenza della regione Elena Ugolini, ma perché Bergamini si ricandida? Lo sentiamo. Mi ricandido perché credo di aver lavorato bene in cinque anni, avevamo un gruppo molto appassionato, ci piace la candidata Elena Ugolini e quindi ci ha tenuto a essere parte anche di un progetto politico di quello che sta diventando effettivamente un laboratorio politico del centro-destra Emiliano Romagnolo, civici e centro-destra uniti per cambiare senza ideologie a questa regione e con un occhio, come dico sempre, di riguardo davvero sulla sanità ferraresa. La priorità è sicuramente quella di tutelare i plessi sanitari periferici, che siano ospedali veri e propri, come ad esempio Lago Santo o Cento, oppure case della salute come quella di Copparo o quella di Bondeno. Non vogliamo solo difendere i servizi che ci sono, ma portarne di più. Un rilancio del turismo con un nuovo coordinamento provinciale sicuramente va fatto. Un'attenzione ai territori dal punto di vista idrogeologico, questo è fondamentale perché siamo una terra strappata all'acqua e quindi dobbiamo continuare con la manutenzione e rispettare sia le bonifiche che la fanno direttamente, sia i nostri agricoltori che la fanno indirettamente per coltivare i loro terreni e tenere da conto i nostri territori. E ora passiamo alla cultura. Il rinascimento ferrarese è tornato a Palazzo Diamanti e lo sarà fino al 16 febbraio prossimo con una mostra che racconta per la prima volta la cultura figurativa ferrarese da inizio 500, di inizio 500 e racconta anche le vicende che fecero della città estense. Un punto di riferimento nel sistema delle corti italiane del rinascimento dopo oltre gli 70 mila visitatori della prima mostra rinascimento a Ferrara che ha indagato con opere da tutto il mondo la prima stagione del rinascimento ferrarese. I diamanti ora mostrano al pubblico i capolavori della stagione fertile della pittura del primo 500. Sabato da sabato la mostra è visitabile ma sentiamo i curatori. L'idea di mettere tutto il percorso dal 1471, cioè dal momento del regno di Borso Destro fino al 1598 quando arriva lo Stato Pontificio a Ferrara e finisce l'ero degli stessi, era un'ambizione evidentemente più vasta che partiva dal 400, le consumava con Costa che poi lavora per il 20 voglio Bologna il percorso e riprendeva con questa che è la mostra più pienamente consapevole nel rappresentare un 500 che ha quattro protagonisti, quattro alcuni dei quali già conosciuti e monografati che sono appunto Caroforo e Dossodossi e due di cui si tratta di una proposta assolutamente inedita e originale che sono Mazzolino e Portovano. Assisteremo alla seconda puntata di un grande progetto che vuole esplorare tutto il 500 ferrarese, la prima tappa è stata la mostra dell'anno scorso dedicata ad Erco e De Roberto e Lorenzo Costa, quest'anno invece vedremo Mazzolino, Ortolano, Garofalo ed Osso che sono i quattro protagonisti principali di una stagione che è quella del Ducato di Alfonso I d'Este. In questa stagione succedono tantissime cose, l'arte passa dal 400 al 500, diciamo diventa moderna, questa modernità viene affrontata da questi artisti in maniera diversa a seconda dell'estrazione culturale e del linguaggio peculiare di ciascuno di loro, quindi si passerà dalla bizzarria di Mazzolino alla severità di Ortolano che sono due artisti che per la prima volta verranno rappresentati in maniera monografica e poi Garofalo che è il grande Raffaello di Ferrara, come abbiamo imparato a conoscerlo già nella mostra del 2008 al cartello Estense e il grande Dossodossi che è l'interprete più immaginifico e più sognante del 500 ferrarese. Tutti insieme questi quattro compongono un mosaico che è la cultura ferrarese del primo 500. Cronaca adesso arrestati in Romania a suo mandato d'arresto europeo tre uomini accusati di furto di mezzi agricoli anche nel ferrarese. Vediamo. Nell'estate di due anni fa la provincia di Ferrara era stata interessata da diversi furti di mezzi agricoli con ingenti danni alle aziende che solo nel primo semestre di quell'anno ammontavano circa 800 mila euro. Secondo i carabinieri, cinque uomini si muovevano tra le province di Ferrara, Bologna e Ravenna. Individuato l'obiettivo da colpire, aziende agricole con macchine nuove e molto costose, il gruppo eseguiva il furto utilizzando anche disturbatori di frequenze per inibire i GPS dei trattori e il gruppo caricava i mezzi su delle bisarche trasportandoli oltre confine. Complessivamente i militari hanno ricostruito 13 furti commessi nelle province di Ferrara, Ravenna e Bologna dal maggio 2022 all'aprile 2023. Due mezzi recuperati nel corso dell'indagine con l'arresto in flagranza di un soggetto. Un'altra persona è stata arrestata nei mesi scorsi mentre si trovava in vacanza in costiera amalfitana e le altre tre persone sono state rintracciate dalla polizia romena pochi giorni fa nelle loro città di origine e condotti in carcere nel loro paese in attesa di estradizione. Presentata in darsene a Ferrara a bordo dell'imbarcazione fluviale La Nena è il progetto di contratto di area umida del Po di Volano, un evento organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara lente di Palazzo Naselli Crispi ha ricevuto infatti un finanziamento del programma Interreg Italia Croazia 2021-2027 per realizzare il progetto nel territorio estense, il primo in regione Emilia Romagna. Allora vediamo di cosa si tratta. È uno strumento volontario per la governance partecipata delle zone umide, proviene dall'esperienza pluriennale dei contratti di fiume e ha come obiettivo aumentare la sicurezza e il benessere per le persone e migliorare la produttività degli ecosistemi acquatici. È il contratto di area umida del Po di Volano presentato in darsene a Ferrara, il primo ad essere realizzato in Emilia Romagna e che vede un ruolo attivo nel Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. E che cosa vogliamo fare? Costruire un vero e proprio piano d'azione. Significa provare a fare sintesi tra le diverse idee di gestione di questa area del fiume e facendo sintesi ovviamente darsi una visione che sia prospettica dove il tema dell'ambiente non venga vissuto in contrasto con le esigenze economiche del territorio. Insomma il fiume è un'occasione di crescita e così lo dobbiamo vedere non come un pericolo, non come un rischio ma come una grande opportunità e quindi il fiume non diventa più un problema ma una straordinaria risorsa. Con questa filosofia oggi abbiamo dato vita a questo percorso che durerà circa due anni e che coinvolgerà tutti i cittadini le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato insomma del territorio della provincia di Ferrara e non solo. Quindi costruiamo un'idea di territorio. Sì, sono due le questioni secondo me che in questi processi devono essere considerati. uno, sapere bene e avere contezza di tutto quello che si sta muovendo attorno allo stesso tema e che possa condizionare il processo, quindi un quadro conoscitivo. La seconda, i processi partecipati funzionano se poi alla fine si prendono delle decisioni e quindi è bene concentrarsi, l'ho ricordato, su poche cose realizzabili, fattibili magari concordate ma che si possono fare perché sennò i processi partecipati poi tendono nel tempo a sfilacciarsi e di perdere della loro importanza. Banalmente gli interessi di un agricoltore possono essere molto diversi rispetto da un lato alla gestione delle acque, quindi la gestione spondale da parte degli enti preposti, dall'altro anche a una piccola azienda che magari lavora nel turismo sostenibile e nell'intermodalità terra-acqua e quindi a interessi diversi ci si siede attorno a un tavolo se si mette d'accordo su una singola azione. Sicuramente lavoreremo sul tema della resilienza ai cambiamenti climatici che è prioritaria non solo per l'oggetto del finanziamento europeo che abbiamo ricevuto ma per l'esigenza del nostro territorio ma anche il tema della gestione della risorsa acqua fra i diversi utilizzi quindi da un lato la necessità di continuare a essere una fonte primaria di irrigazione per la nostra agricoltura ma anche iniziare a sviluppare sempre di più forme di turismo e di ricreatività sulle aste fluviali. Abbiamo voluto fare il primo appuntamento proprio sulla Nena perché in realtà è un po' il simbolo di questo contratto di aria umida. si parte dalla città per arrivare alla fosse tant'è che i prossimi appuntamenti saranno a Codigoro saranno a Sabioncello San Vittore, a Migliaro e per poi tornare qui a Ferrara per chiudere un pochino il cerchio. Demolito l'acquedotto di Montessanto, l'area sarà presto restituita al comune nel Vughierese e in fase di conclusione il cantiere del gruppo Era che in accordo con l'amministrazione comunale ha smontato l'infrastruttura alta quasi 30 metri riqualificando così il sito in via costa la zona senza l'ingombrante presenza del manufatto ha quindi cambiato volto, dicono da Era. E ora parliamo di Confagricoltura perché il Food and Science di Ferrara, il festival che torna a fare tappa nella città estense con un nuovo lab, il format che porta i contenuti della manifestazione mantovana in giro per l'Italia il 18 e 19 ottobre, la due giorni dal titolo Agricoltura, Cibo e Scienza, le sfide del cambiamento. Che cosa ci attende e lo sentiamo? Stiamo parlando di un festival itinerante che parte da Mantua ma ormai passa per Alessandria, Bergamo, Rovigo, Pavia e Ferrara noi siamo ormai la terza edizione perché crediamo profondamente in questa missione e in questa visione di mettere sotto lo stesso tetto consumatori e scienziati ricercatori, imprenditori agricoli e politici per appunto discutere e far conoscere e raccontare il futuro e il presente del nostro modello agroalimentare da un lato con grande veridicità scientifica, quindi basata sui dati, basate sulle ricerche, basate sulle statistiche ma dall'altro con un racconto comprensibile e accessibile a tutte le persone, dai più piccoli ai più anziani ed è quello che abbiamo visto succedere negli anni nei festival che si sono succeduti in tutte le città d'Italia. Il settore agricolo che consideriamo un settore fondamentale per la nostra economia, del resto lo dimostrano i dati a livello provinciale, il settore agricolo produce quasi 460 milioni di euro di PIL registrando un 5,1% del PIL totale a livello provinciale, più della media della regione, più della media del nostro paese. Questi dati dimostrano appunto che questa attenzione da parte della nostra amministrazione in collaborazione con Confagricoltura e con le altre associazioni di categoria credo che sia fondamentale per dare una prospettiva di sviluppo non solo al settore agricolo ma a tutta l'economia del nostro territorio. Noi partiremo con un venerdì in cui vogliamo mettere a fuoco all'interno della splendida location di Palazzo dei Diamanti della Pinacoteca nazionale mettere a fuoco quali sono le sfide del cambiamento del nostro modello agroalimentare, in particolare quali sono le scelte di politica europea che dovremo fare prossimamente per reggere la sfida da un lato del cambiamento climatico dall'altro della globalizzazione dei mercati. Il sabato invece spazio alla divulgazione su tanti temi che sono fondamentali sul tavolo per il presente e per il futuro. Ci sposteremo all'ex Palazzo Verdi, all'ex Teatro Verdi in cui parleremo di protezione e difesa delle piante con un ospite d'eccezione come Marco Cattani il direttore delle scienze National Geographic. Poi avremo un panel tutto al femminile in cui metteremo insieme appunto imprenditrici, scienziate e divulgatrici, avremo Vittoria Bambilla che è una delle principali genetiste agrarie d'Italia che è responsabile della ricerca sul riso resistente a una delle peggiori patologie della cultura. Al pomeriggio invece avremo un grande spazio al cibo, all'alimentazione, alle diete con Sara Olivieri e poi chiuderemo con uno dei temi che stanno arrivando anche in agricoltura in modo dirompente, disrappi direbbero gli inglesi, che è l'intelligenza artificiale che arriva e arriverà in agricoltura e aprirà fronti nuovi e anche molto interessanti anche sul tema della sostenibilità perché verrà utilizzata anche per studiare la biodiversità del suolo, giusto per fare un esempio, e avrà impatti sicuramente fondamentali che dobbiamo conoscere come detti ai lavori e non solo come detti ai lavori. Quindi grande spazio a cibo, produzione di quello che abbiamo nel piatto, incontro con il mondo della ricerca, dibattito con il correlatore di rilievo anche internazionale perché avremo di fatto un pezzo di Europarlamento, lo portiamo qui a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, credo che sia un'occasione unica per i ferraresi, insomma di avere uno sprazio di futuro di quello che sarà il dibattito. E con questi appuntamenti con l'agricoltura è tutto, grazie e arrivederci. Grazie Grazie Grazie